Adelio e sorelle bianconeri salve a tutti e allora notizia di poco fa il TAS di Lausanne ha annullato la squalifica del Manchester City che potrà disputare le prossime edizioni di Champions League in tutta tranquillità ha convertito la squalifica in una multa da 10 milioni di euro una multa che sono come 10 euro per gente come me e voi per gli sceicchi lo sapete poi con i soldi che si fanno con la Champions League veramente 10 milioni di euro è una pena irrisoria sentenza farsa sicuramente che insomma da praticamente l'anarchia in tema afferple finanziario la totale anarchia perché così ci sarà un pericoloso precedente però sapete cosa vi dico che sono contento sono contentissimo perché finalmente la maggior parte delle persone sul web e non solo la finiranno di rompere i coglioni con sta cosa di Guardiola alla Juve perché c'è la squalifica Guardiola Guardiola già stava ricominciando il tormentone stava ricominciando il tormentone Guardiola e ne ho le tasche piene basta basta illudere quei poveri quei poveri scemotti che credono ancora a sta cosa e ripeto soprattutto in post covid in post covid non tanto post perché si rischia si rischia un ritorno comunque diciamo in questa situazione questa situazione di mega disastro mondiale economico ancora la gente che parlava di Guardiola il mercato Pogba Milinkovic Savic idioti 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 ridimensionamento per tutti la tanto agognata rivoluzione in rosa non ci potrà essere e se ci sarà non sarà con i Pogba con i Milinkovic Savic con gli Alland con i Neymar no scordatevelo sarà con i Locatelli con i Bogal questo sarà ragazzi non ci sono e la gente già stava ricominciando Guardiola Guardiola stava ricominciando stava ricominciando già per prendere Ronaldo abbiamo smembrato una rosa stava ricominciando il tormentone ora questa gente con sta sentenza la finirà di rompere i coglioni perché a un certo punto a un certo punto ve lo devo provvedire sapete scassato 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 basta questi tormentoni e illude la gente i poverini i poveracci quei ragazzini che credono ancora le fiabbe con sto Guardiola basta a un certo punto a un certo punto ve lo devo provvedire ma affambo vediamo se ora la finirete per una volta una sentenza che mi dà serenità perché finalmente la finirete di sparare minchiate fino alla fine sono una volta una sentenza che mi dà serenità la finirete per la finirete per la finire